Hey guys, qui è il vostro Gianni Gamer e bentornati in questo nuovo episodio di Paper Mario, il portale milenario! Nello scorso episodio abbiamo veramente rischiato di brutto arrivare al livello 90 del labirinto dei 100 livelli. Ora ci mancano soltanto poche stanze, le ultime 10 stanze, e poi capirete quello che andremo incontro. E se raga, sarà veramente tosto, ma ci dobbiamo provare. Ora, mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like per il sostegno, il supporto e anche il coraggio di andare avanti. E mi raccomando, condiviate il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video della serie. Allora, sarà tosto raga, sarà tosto veramente. Qui, qua raga, mi devo concentrare veramente tanto eh. Vediamo. Ecco, già un menico molto potente, fantastico. Però a me non ho una cosa buona, perché a me non posso salire di livello. Allora, purtroppo non ho modo per salire di livello, per curarmi, però posso fare così raga. Ok, ora. Facciamo così. Dai, ci provo raga, ci provo. Mamma mia. Eh, addirittura un altro nemico. No raga, sentite, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Io i nemici adesso non li esaminorò mai più adesso, perché purtroppo non posso certo rischiare appunto di morire. Cavolo. Eh, raga, questo è un bel problema. Porca puttana. Sono tostissimi raga, sono tostissimi. Mi faranno danno di sicuro questi qui raga, per forza. Gli abbiamo fatto almeno 5 danno con il lampo blitz, diciamo. Però, raga, c'è. Abbiamo aumentato anche là il danno, questo. C'è un nuovo pipistello e anche uno di questi qui che sono molto tosti, infatti. Beh, almeno il pipistello non mi attacca, per fortuna. Questo perché c'ho l'affare che mi protegge. Proviamo a usare l'astromoto, non lo so, raga. Vediamo un po' se funziona. Ci provo. È l'unica cosa che posso fare. Oh, mamma mia. Ok. Eh, ho sbagliato. Porca vacca, vabbè, non importa. Almeno 5 di danno gli ho fatto a questi qui, eh. 5 di danno almeno glielo ho fatto. Ok. Il primo andato, il primo andato. Spera meno di 6 di livello perché mi servirebbe proprio. Testata, non mi interessa. Vai. Quanta difesa ha quello? Non tanta, per fortuna. Però, raga, veramente. Sto rischiando un botto. E se adesso è invisibile, questo bastardo. Mannaggia. Dimmi che attacca Mario, no, attacca Gumbella. Ehi, ha rubato 5 di vita. Sì, sono molto tosti. Basta soltanto che... Basta che sappiate che... Questo più vissello è più forte rispetto a quello di prima. Ruba 5 di vita invece che 3, raga. Ora. Vediamo un po'. Salto flip su lui. Vediamo un po' se gli faccio tanto danno. Ok. Almeno tanto danno gli ho fatto. Però a lei devo cambiare per forza il compagno. Metto... Potrei fare il cannonio? Va, faccio il cannonio, dai. Faccio il cannonio così almeno non muore. Eh, che cavolo. Allora, purtroppo non mi fa salire di livello, raga. Questo bel problema. Allora. Facciamo così. Difesa. Poi. Questo invece... Facciamo difesa e vediamo un po' se colpisce a cannonio. Vaffancuora, colpito a Mario. Mannaggia, oh. Sono quasi per morire, raga. Coppa di colori, raga, che praticamente c'ha... Boh. Mannaggia. Usare la... Camicazza, dai. Non voglio rischiare tanto. Ora. Farei il... No, anzi, facciamo il mazzapicchio, dai. Ma non mi amano male che l'ho eliminato, raga, perché ero quasi morto. Per fortuna l'ho eliminato. Non mi fa salire di livello, raga. Perché mi servivano 24. Ne ho 18. Mannaggia, per poco non salgo di livello. Raga, al suo punto, me la devo rischiare. È una follia, ma devo rischiamola per forza. Vediamo un po' contro chi devo combattere, raga. I punti stelle, raga, non li posso nemmeno ricaricare. Casomai provo a utilizzare un bernoccolo, casomai. No, raga, per forza il bernoccolo. Fatemi utilizzare il bernoccolo. Il bernoccolo mi servirebbe. Per forza. Almeno mi ricarico tutto. Mi ricarico tutto. Non ho mai ricaricato tantissimo, raga, però va bene la metà. La metà di 50, almeno. Dai. Sono tosti questi nemici qua, adesso. Questi qua sono tipo delle nuvole. E delle nuvole, beh... Diciamo che non sono abbastanza... ...da sottovalutare. Allora. Prima elimino questo, raga, perché c'hai lampo blitz. Ok. Poi. Gigabomba. Vai. 8 li ha fatto. Bravissimo, cannonio. Bravo. Quanti danni fanno che non mi ricordo? 7. Mamma mia. Eccolo lì, raga, c'ha la nube. Purtroppo si difende dalla nube. Questo è un bel problema, ragazzi. Allora. Vediamo. Userei il salto flip su quello. Così quello lo faccio fuori. Poi. Cannonio. Gigabomba. Per forza. Tanto, raga, salgo di livello. Non è un problema. Dimmi che lo elimino, raga. Bravissimo, cannonio. Ok, ci siamo salvati. Ci siamo salvati per un pelo, eh. Diciamo. Ok. 24. Siamo solo alla seconda stanza, eh. Nuovo livello. Mi aumento la vita, raga. Non posso rischiare di avere 55 di vita. Almeno 60. 60. Per battere il labirinto dei 100 livelli mi servirebbe 60 di vita. E ci ricoriamo anche un po' i punti stella. Bene. Spero almeno che mi ricarico tutto, raga, quando devo andare ad affrontare la centissima stanza. Perché mi servirebbe come, raga. Giusto? Questa è la 92. Sì, la 92. Ok. Ora. 93. Si va avanti, raga. Si va avanti. Dai, dai, dai. No. Sta bomba, no. Mi servirebbe... Aspettate. Mi servirebbe ombretta per forza. Porca vacca. Ok. Se bomba gigante, raga, sono un po' toste, eh. No, la gigante, quella dorata. No. Quella laga è tostissima. Porca vacca. Posso provare ad ammazzarla, ma... Porca vacca. Eh, non è molto facile. Dai, ci provo, ci provo. Ora. Vediamo un po'. Magi fiamme. Ah, 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 ah. Vediamo un po'. Eh, 4 e 5 di danno ci toglie, appunto. Vedete? Questo perché queste bombe qui danno tantissimo danno. Però ci ha fatto avanzare di livello tantissimo, raga. Guardate. C'è un nuovo avanzare di livello. Tanti punti stelle ha già dato. 46. È tanto, eh. È tanto. Almeno se ci ha dato tantissimi punti stelle, posso risalire di livello. Meno male, meno male. Ok. Ora. Dove aumentare per forza i punti tecnica, raga. Mi servirebbero proprio. Però posso utilizzare anche le monete per avanzare di livello. Con quello lì. Non vi preoccupate. Oh. Quello, raga, sarà un po' tosto. Però ci provo. Ora. Chi ci abbiamo? No, le gigliole ancora. Che palle. Le gigliole di nuovo. Dovrei per forza cambiare e mettere prima lei. E no. Magi e fiamme. Per forza. B. It's. A. B. It's. Puoi fare il ricarico. Raga. Questo almeno ci difendiamo. No. Non gli è servito quello. Anche se in realtà potrei anche utilizzare la sonnolina. Però è meglio di no, raga. Quindi. Vediamo un po'. Farei. Giraboom. Facciamo giraboom, raga. Facciamo giraboom. Dai. Ci provo. Ci provo. Ok. A me ne facciamo tanti danni, raga. Guardate. Va bene. Due sono morti. Questo è quello che volevo. Perfetto. No. Ecco. Quella lì è morta. Ok. Mi sono difeso. Ottimo. Allora. Vi spiego poi una cosa. Le gigliole sono un po' delle bastarde. Questo perché, raga. Beh. Adesso ve lo spiego. In sintesi. Intanto dovete utilizzare la difesa, raga. Perché queste, raga, tolgono tantissimo. Oppure giraboom. Dai. Facciamo di nuovo giraboom. Dai. Così le ammazzo subito, raga. E salgo anche di livello. Queste gigliole, raga. Queste girassole dorate. Praticamente tolgono tantissimo. E poi quando le ammazziamo. Ci dà la possibilità di avere tante monete. Capite? Ok. Tanto lo ammazzate. Meno male che giraboom è servito a qualcosa, eh. Ve lo consiglio di utilizzare, giraboom. Ottimo, raga. Guardate quanti punti se ne hanno dato. Guardate. Mamma mia, raga. 100 addirittura. Tantissimo, raga. Vedete, le gigliole danno tantissimo, eh. Per forza vi dicevo che... No, le gigliole. Le girassole dorate. Per forza sono fortissime. E vi danno tanto. Nuovo livello. Ok. A questo punto faccio commentare i punti tecnica, dai. Non mi interessa niente dei punti fiore. Non mi interessa niente, dai. Mamma mia. Oh, raga. Ma la sono giocata di brutto. Per fortuna che le girassole dorate davano tanto. E danno anche tante monete, mi pare. Guardate quante. Sono tante, eh. Sì, perché le girassole dorate danno tanti punti tecnica. Cioè, punti stella. E anche tante monete. Non mi aspettavo di incontrare. Oh, meno male. C'è il fufino. Che stanza siamo, raga? 95. No. Anche se... Anche se le battaglie sono difficili, raga. Io ho l'intenzione di andare avanti. Senza avere problemi. Senza che... Saltare un livello. Lo so, ragazzi. Voglio provarci. Almeno voglio essere degno di battere almeno l'ultima battaglia senza problemi. Ok? Questo voglio farlo. Ora. La bomba basta farla esplodere. Basta farla esplodere, raga. Guardate. Tanto siamo già... Vediamo un po'. Iniziano. Ah. Iniziano tanto siamo già carichi di vita, raga. Siamo già carichi di vita. Guardate. Ok. E uno l'abbiamo fatto fuori. Ora. Multisalto. Facciamo così. Uno. E due. Ah. Non l'abbiamo fatto fuori, purtroppo. Vabbè. Non importa. Credo che attaccano solo ombretta. Eh. Sì. Allora. Vediamo un po' se subisce danno. Eh. Non è morto. Va bene. Nessun problema. Ci pensarà allora... Ombretta falla fuori. Vai. Itzlon. Itzlon. D. A. Itzlon. Bravissima. Ci fa salire di livello? No. Peccato. Però vabbè. Non importa. Tanto ci manca poco, raga, per salire di livello, eh. 15 punti stella. Ci mancano 20 per salire ancora di livello? 20. 20, sì. Quasi 20. Prossimi nemici, raga. Ci mancano soltanto 3 stanze. 3 stanze si arriva all'ultima stanza. Mamma mia, raga. C'ho un po' di paura che questo video verrà corrotto e che muoia. E tutto quello che ho fatto sarà stato un caso perso. E sarà stato... Sarà stata una perita di tempo. Io non lo so, eh. Però dobbiamo provarci, raga. Dobbiamo provarci. Basta farlo esplodere, raga. Basta farlo esplodere. Allora. Prima di tutto. Il salto flip su di lui. Fidatevi di me. Salto flip. Poi. Falle esplodere, gombella. Falle esplodere. Almeno devo rischiarla. B. B. It's not. A. Falle esplodere. Bravissima. Purtroppo non ci possiamo difendere, ma non importa. Almeno saliremo di livello, ragazzi. Guardate. La girassolio dorata ci ha dato tantissimo. Per fortuna. Almeno ci curiamo di nuovo. Questa è una bella tattica, secondo me, ragazzi, eh. È una bella tattica. Dal mio punto di vista. Nuovo livello. Aumentiamo i punti fiori stavolta, raga. E poi faremo di nuovo i punti tecnica. Dai. Mi servirebbero 50 punti fiori, raga. Mario è ormai una superstar. Nella prossima battaglia lo scenario e il pubblico saranno ancora più grandi. Ottimo. Questo è quello che volevo sentire. Non mi ricordo se ci fossero tre stadi, tre miglioramenti dello stadio oppure no. Due battaglie, raga. Due battaglie. Dobbiamo concentrarci al massimo. Vediamo, vediamo. Mamma mia, raga. Ma mi sentivo così gassato. Ok. Il pipistello mi sto a ammazzarlo. Dai. Oh, guardate il pavimento, raga. Sta cambiando il pavimento. Avete visto? Allora. Come sa che mi converrei utilizzare il salto molla? Per forza. Prima su quella nuvola. Ok. E poi con lei useremo la magia fiamme. It's non. It's. Ah. It's. It's. L'abbiamo posto l'ammazzo? Tutte e due? No. Una non l'ho fatta fuori. Porca vacca. Era meno se l'eliminavo quello lì. Cosa c'era va nel coso? No. La confusione. Porca vacca. Questo è un bel problema, ragazzi. Questo è un bel problema. Dimmi che lo scrupiz è stato eliminato o no? Purtroppo no. Eh, raga. Ci potrà mancare, purtroppo, ragazzi, adesso, eh. Quindi, a sto punto, mi converrebbe utilizzare il caricorpo per forza per curarci. Almeno per difenderci. Mi servirebbe per forza. Allora, così, così, così. Ok. Quattro e quattro ciascuno. Questo è quello che volevo. Bene, bene. Mamma mia, almeno ci possiamo difendere tranquillamente senza problemi. Vediamo un po' se ombretta può attaccare. Almeno uno di questi due. Almeno non so mai ci fiamme. Ah, no, sotto la difesa. Vabbè, non importa. Va bene anche lo stesso. Almeno lo scrupiz almeno subirà del danno, fortunatamente. Ok. Non è ancora stato eliminato quello? Sano. Vabbè. Comunque lo scordimento è quasi finito, eh. A sto punto facciamo salto normale. Dimmi che non lo manca. Ok, non l'ha mancato, per fortuna. E... L'altro... Boh. Curiamoci. Ah, peccato. Vabbè. Tanto ero già al massimo di vita, raga. Ero già al massimo di vita. Non importa. Attacca l'ombretta. Bravissima. Non ho male che lo stordimento non ha dato problemi. Grazie, Melluna. Grazie per i punti stella raddoppiati. 24 a sto punto, giusto? E siamo a 48. Ottimo. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Sarà veramente tosta sta battaglia, ve lo giuro. Ma ne vale la pena per forza di arrivare fino alla fine. Cioè, il dungeon è stato lungo, eh. Ok. Manca solo una stanza da affrontare e poi c'è l'ultima stanza. Poi capirete, raga, cosa troveremo nell'ultima stanza, eh. Poi capirete. No, quello no. Quello darebbe problemi. Cacchia, allora. Quello darebbe problemi. Ma ci proviamo, raga. Ci proviamo. Dove utilizzare il ricaricolpo per forza, raga. Il ricaricolpo dove utilizzare. Allora. Vediamo un po'. Prima facciamo magifiamme. It's A. It's Lombi. It's. Ok. Poi. Il ricaricolpo che tanto, raga. Oppure farei fermate. No, giro a boom, no, 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 no. Il ricaricolpo, dai. Non voglio consumare tanti punti stella. Allora. Vai. Raga, ve lo dico, eh. Poi dopo lo dirò direttamente poi alla certissima stanza. Ok, 3-4. Mi va bene, mi va bene. Mi va bene questa cosa. Allora. No, sei ingigantito. mai detto. Ma hai detto. Va bene. Eh, che cavolo. Quelli ci danno tanto danno comunque questi qui, eh. Beh, purtroppo quello lì ha rubato i punti, vabbè. Dove eliminare per forza quello lì davanti, raga, perché quello lì darebbe problemi. Quindi, magifiamme, vai. A, B, A, 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 Izzilon. Ok, tutte e due, brava. Ora, salto normale e lo facciamo fuori. Vai. Uno. E due. Dieci l'abbiamo fatto, va bene. Ok, raga, adesso è arrivato il momento dell'ultima stanza. Però prima, raga, vi consiglio di una cosa. Eh, tanto comunque l'importante è a meno che avete il massimo della vita, ok? Spero che avete il massimo della vita. Non so se c'è esattamente una stanza dove si può curare, ma credo di no. A sto punto, raga, io mi metto combella e sono pronto per affrontare l'ultima stanza. Dai, andiamo. Mamma mia. Eccola qui, raga, l'ultima stanza. Ebbene sì, raga, nella centesima stanza c'è una sorta di drago scheletrico. Proprio così. Che essere inquietante. E poi, tra l'altro, raga, è anche imbattibile. È anche imbattibile. E non sto scherzando. Gombella, fai la tua encicopedia subito sull'Ossandra. Falla subito. Ora vi spiego come batterla. È molto forte. Ha 200 di vita per 8 di attacco. Si chiama così perché è una dragonessa fatta di il sole e ossa. 200 punti vita, 8 e 2 di difesa. Alita contro il nemico lo addormenta e lo ghiaccia. Quando perde punti vita, li recupera automaticamente e praticamente risuscita. Ho l'impressione che sia più forte dei boss finali standard. Su, facciamoci forza. Ebbene sì, raga. Questo qui è uno dei boss più imbattibili, più forti di tutto il gioco di Paper Mario. E si può affrontare soltanto nel dungeon dei 100 livelli. Non è facile, raga. È molto forte questo qui. Quindi non sottovalutatelo. Allora, per batterlo, devo impegnarlo al massimo. Allora, facciamo il ricaricorpo. Vediamo, vediamo. Il ricaricorpo. Fatemi concentrare, eh. Ok. Va bene. 4 e 3 di difesa. Mio o meno lo stesso. L'importante è che di danno non ne farebbe tantissimo. Vi dico una cosa, raga. Già una breve... Ecco, intanto ho anche sbagliato a schivare. Vi dico una breve promessa, raga. Se riuscirò a battere questo nemico, ma non so se ce la faccio perché è veramente impossibile batterlo, voglio vedere 20 like o più di 20 like, oppure 50 like in questo video. Perché, raga, questo è uno dei boss più tosti che aveva mai affrontato su Paper Mario. Allora, facciamo... Allora, vi dico una cosa. Io vi consiglierei di utilizzare... Vediamo un po'. Io vi consiglierei di utilizzare... Prima di tutto Gombella. Perché Gombella c'ha la multitestata. Quindi farei Gombella. Multitestata, vai. Ok, bene. Brava Gombella. Qua non dovete mai sbagliare, perché altrimenti, raga, dopo siete fottuti. Ora, salto flip. Vai. Ok, va bene, va bene. C'è un tot 68. Almeno va bene che gli abbiamo fatto più di 30 danno. Occhio a questo. Va bene. Ce l'ho specificato, ma non ha un problema. Ora. Gombella, ti consiglio esattamente di farti da parte perché... Ora mi servirebbe... Oppure dai, facciamo un altro run con te e poi cambio compagno. Va bene, va bene. Va bene due. Ora. Mario. Fai il salto molla. No, oppure il salto flip. Salto flip. Nove. Va bene nove. 189 di vita c'ha questo qui, eh. No! Cacchio. Va bene, non importa, non importa. Va bene, va bene. Almeno l'importante è che non ci ha fatto niente. Ora. Adesso. Cambiamo. E mettiamo... Ehm... Non lo so. Farei cannonio. Vai, facciamo cannonio. Facciamo cannonio. Ora. Ehm... Salto flip. Dobbiamo ricurarci subito, ragazzi, eh. La nebbia costa meno luci manca. Spero di sì, raga. Perché non lo so, eh. Le probabilità non sono molto alte. Ok! Ci ha schivato, meno male. Ci ha mancato, ci ha mancato. Ora. Ehm... Gigabomba. Non so se servirebbe, però... Per il momento facciamo... Triple bomba. Vediamo, può premiare al momento giusto. No, facciamo kamikaze. Facciamo kamikaze. Poi cosa mai userei ombretta? Oppure no, veramente, facciamo ombretta. Ho sbagliato, facciamo ombretta. Anche ombretta servirebbe tantissimo in questa battaglia. Poi... Cos'è? Per sicurezza lo elimino, raga. Perché non lo vedo. Eh, scusa, ma dovevo eliminarlo perché non lo vedevo. Ora. Facciamo il mazzapicchio, raga. Purtroppo non ho abbastanza attacchi. Però spero che questo possa bastare. Sette li abbiamo fatto. Dai, va bene, va bene lo stesso. Bravo Mario. La nebbia poi ci aiuterebbe a riparare dagli attacchi, ma non so per quanto. Due di danno, bravo. Non è male che... Lo stadio gli ha fatto un po' di danno. Oh! Ci siamo difesi, bene. Ottimo. Ora. Faremo adesso di caricorpo. Però prima... Ehm... No, non ci provare. Vai, ombretta, eliminalo. Brava. Gli daremo del fuoco perché col pugno ardente penso che lui è debole al fuoco. Vediamo un po'. Ok. Te li danno ma non importa. Adesso. Cosa importante. Usate di nuovo di caricorpo. Fidatevi di me. Di caricorpo. Vai. Fatemi conciutare, ragazzi, eh. No, ho sbagliato. Va bene, va bene. Mi interessava la difesa. Va bene anche l'attacco, però. Porca vacca. Ora. Il prossimo turno dobbiamo aspettare. Però almeno abbiamo lamentato l'attacco alla difesa. Brava. Brava ombretta. Ottimo. Ora. Almeno ci ricuriamo. Bravissimi. Ora. Ehm... Fai il pugno ardente su lui. Vediamo un po' quanti danni fa. Sei. Va bene sei. Va bene sei. Ora. Ehm... Facciamo. Ehm... Mazza picchio. Così facciamo tantissimo. Vediamo un po' quanto. Credo dieci. Dieci. Grande Mario. Continua a fare i tuoi salti da stile. Bene. Meno male che ci siamo difesi. Allora. Ti dico una cosa, ombretta. Stai così per morire. Quindi. Ehm... Se riusciamo a fare bingo è meglio. Non lo so. Casomai. Ehm... Cambio. E metterei. Ehm... Occupando non lo so. Perso la ciombetta. Perso la ciombetta. Se ce l'hai bisogno posso curare Mario. Allora. Ehm... Pugno ardente di nuovo. Dai. Ok. Però con il salto flip quanto gli facciamo esattamente raga? Più di tanto del mazza picchio? Vediamo un po'. Perché non lo so eh. Beh. Più del mazza picchio gli facciamo con questo. Con il salto flip raga. Mamma mia. Ombretta sei quasi morta. Porca vacca. Questo bel problema. Ora. Se vi permetti. Ehm... Tu ombretta adesso vai un attimo fuori. E mettiamo cannone adesso. Dai. Facciamo cannone ora. E... Ancora il salto flip. Oppure il salto molla. Facciamo il salto molla. Il salto flip. Il salto flip. Dai. Poi quando ce ne vi sei bisogno raga. Usarò il ben noccolo per curarmi raga. Cosa o meno potrei farlo anche adesso. Però non ora. No. Non ho schivato. Va bene. Va bene. Non fa niente. Ora. Grazie. Meno male i TP TV li mi hanno salvato. Altrimenti lo salto mi avrebbe colpito. Va bene. Ora. Ehm... Cannonio. Fai il tuo attacco kamikaze? Bravo. Almeno gli ha fatto quattro. Bene. Ora. Ehm... Se ce la facciamo almeno posso ricurarmi i punti fiore. Quindi. Vai Mario. Bravissimo. Che stile. Almeno ci riquidiamo anche un po' i punti stella. Vediamo un po'. No. Non mi sono accorto di quello. Vabbè. Pazienza. Pazienza. Ok. Bingo. Fatto. Fatto. Bene. Purtroppo non ci ricarichiamo i punti stella e i punti vita. Ma va bene i punti fiore. Occhio. Cannonio. Mi sono parato. Mi sono parato. Bene. Ora. Ehm... Adesso non utilizzo niente. Facciamo. Casomai. Ehm... Gigabomba. Vediamo un po' se funziona. Vediamo un po' quanto gli facciamo. Bravo. Cannonio. Bravissimo. Bene. Allora. Adesso con il mazzapicchio. Purtroppo non posso utilizzare il... Il ricaricorpo. Quindi. Ehm... Salto flip. Salto molla. Dai. Facciamo il salto molla. Proviamoci. Vediamo un po'. Va bene. 5. Va bene anche 5. Va bene. Ehm... No. Adesso si cura. Si cura. Lo sapevo. Sapevo che si sarebbe curato. Lo sapevo. Va bene. Va bene. Ci possiamo provare. Ci possiamo provare. C'è una bomba che sa per esplodere. Non so se l'avete vista, eh. Allora. Kamikaze. Vai. Cannonio. Qua raga devo fare bingo, eh. Mi devo concentrare perché devo fare bingo. Vedo se funziona. Vediamo. Oh. Grazie. Perfetto. Almeno raga c'ho i punti stella ricaricati. E siamo a posto. Bene bene. Mamma mia. Ora. Ricaricorpo subito Mario. Fai ricaricorpo. Mamma mia raga. Fatemi concentrare, eh. Ok. Quattro ciascuno. Questo è quello che volevo. Grazie mille. Mamma mia. Allora. L'hai fissamentata se lo so. Ok. Ci siamo difensi. Bene. Per sicurezza raga faccio una cosa. Cannonio. Cambiati. E mettiti gombella. Casomai. Sì, sì, sì. Mettiti gombella. E Mario. Usa il tuo stato flip. Vai. Bravissimo. 47. 47 siamo. Dai. Ancora sicura? Bastardo infame. Va bene, va bene, va bene. Lo stesso. Molti testata. Vai. No. Ho sbagliato. Allora facciamo una cosa. Ricarico ancora perché mi servirebbe. Vi devo concettare qua ragazzi, è veramente. Qua è tosto perché lui si curerebbe. Ok. Quattro ciascuno. Bene, bene, bene. Mamma mia. Ancora i tettuni, bene, meno male. Mi devo curare per forza raga, mi devo curare subito. Mi devo curare subito. Quindi, gombella. Usa il bernocculo su Mario, che servirebbe a Mario. Bravissima. Almeno ci curiamo. Il 50 almeno. E ora facciamo... Ehm... Mazza ficchio, dai. Spero che funziona, dai. 11. Bravissimo. Bravo Mario. Gommela purtroppo è quasi morta, ma se è morta non mi importa. Ha subito danno, bene. Eh, lo so, sei morto. Sei morta, sei morta, scusa. Fai niente, fai niente, fai niente. Ci possiamo provare. Ora. Mario, ti consiglio di cambiare e metterti cannonio subito. E fai... La gigabomba. Vai. Quanti danni fai? Non lo so, eh. Ma spero tantissimo. Minchia, tanto gli ha fatto. Però a me sa che si cura. Non lo so, eh. Credo che si cura. Ah, peccato. Purtroppo non ha subito lo shock. Eh, le bobombe hanno fatto spaventare i... Vabbè, non importa. Adesso. Ehm... Fai di nuovo il caricorpo, casomai. Prima aspettate un attimo che il cannonio ha finito il suo... Vabbè. Avete capito, insomma. Bravissimo Mario. Canone o fai il giocabomba? Vai. Dai, raga, che è quasi morto, eh. Spero che non si cura. Se è sicuro è un bastardo. Ok? 26. Mamma mia, raga, ma la sto studiando tantissimo sta battaglia. No, il ghiacciamento. Ok. Difesi. Bene, bene. Ora. Non posso più curare Mario, quindi mi devo giocarmi tutte le carte regola. Allora. Ehm... Sì, fallo. Fallo. Almeno dopo mi posso anche difendere. Tranquillamente. Bravissimo Cannonio. Ora. Vediamo un po'. Ricari corpo. Spero che lui non si cura, perché altrimenti non lo so che fare. Fatemi concentrare. Ok. 4 e 4. Bene, bene. Mamma mia. Uff. Stato, sta quanto tempo abbiamo ancora? Ma cavolo, sta durando tantissimo sta battaglia, raga. È veramente... Però mi fa molto di... Ah, cannone. Mi spiace. Vabbè. Meno male che non si è curato, ragazzi. Aspetta. Raga, mi sa che abbiamo vinto, eh. Raga, mi sa che abbiamo vinto. Vai. Cannonio. Fai gigabomba. Mi sa che abbiamo vinto, raga. Raga, mi sa che abbiamo vinto. Mario. Fai. Il mazzapicchio. Raga, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Boom. Che stile. Mamma mia, grazie, Merluna, che mi dai i punti stella. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Grazie. 999 monete, raga. Me le merito tutte. Tutte, tutte. Oh, mamma mia. Due punti stella soltanto. Ma stai scherzando, spero. Oh, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Fatemi prendere il fiato. Mamma mia. Oh. Sei stato più utile. Cannonio, oltre che ombretta. Mamma mia. Guarda. Io, Cannonio, ti voglio ringraziare. Ombretta, lo so. Sei stanca. Anch'io so stanco, ma non importa. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ragazzi, 50 like per questo video. Per questo video importantissimo, perché sto boss era impossibile da sconfiggere. Era veramente tosto. Mamma mia, ragazzi. Sono messo malissimo. Guardate. Cioè, niente punti stella. Niente punti fiore. Però un po' di vita di Mario. E Gombella quasi allo sfinimento. Sei sfinita, eh. Allora. Adesso. Fatemi un attimo. Fatemi un attimo prendere il fiato. Oh, mamma mia. Allora. Vi spiego. Se battete questo boss, vi darà una cosa molto importante. E ora lo vediamo. Guardate un po'. Tessera contro shock. Mari infligge a nemici in metà dei danni subiti dai loro attacchi diretti. Questa raga è la tessera più rara e più forte del gioco. Quanto vale? Vediamo un po'. Sette punti tecnica. Mamma mia. Ora. Possiamo ritorna sopra. Questo mo' non si risveglia. E lo spero proprio. E fatemi andare sopra. Questo tubo ci può riportare sopra. Dove eravamo prima. Oh, mamma mia ragazzi. Raga, datemi i premi perché sto boss veramente tosto. E stiamo ritornati al primo livello. Guardate. Dove tutto ha avuto inizio. So pure senza voce raga. Forza di... Mamma mia raga. Fatemi curare tutto raga. Fatemi cura tutto. Ok. E tu? Che c'è? Sono in cinza del trasportatore. Conosco il passato... Ah, no, non mi interessa, non mi interessa. No, 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 no. Non mi interessa, non mi interessa. Grazie. Non mi interessa. Ci faceva portare al cinquantesimo piano questo qui. Vabbè ragazzi. Adesso che abbiamo finito il dungeon dei cento livelli. Possiamo andare a completare la storia di Paper Mario. Però nel prossimo episodio. Quindi mi raccomando ragazzi. Se lo volete il continuo. Lasciate tanti like. Almeno 50 per questo episodio. Condividete il video della serie con i vostri amici. Iscrivetevi. E attivate la campanellina. Per non perdervi nessun video della serie. Detto questo ragazzi. Da vostro Jamie Gamer e Mario. Vi salutiamo. E al prossimo episodio. See you next time.